ciao a tutti ragazzi dopo l'avventura di Fraser Island sono tornata sulla mainland sono di nuovo a rainbow beach e sto salendo andando a conoscere un amico dei ragazzi di in viaggio col tubo Giorgio e Martina questo amico si chiama Carlo vi lascio il loro video in una delle schede che appariranno si chiama appunto Carlo questo loro amico ed è una duna di sabbia penso ne sono sicura dovrebbe essere una delle più grandi al mondo comunque ci vediamo là a 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 Eccomi qua, sono finalmente arrivata da Carlo, guardate qua, è veramente un'immensa distesa di sabbia, è proprio una collina di sabbia, non proprio una duna e adesso sto appunto andando al look out. Quelle che avete appena visto sono le scogliere, io adesso sono proprio sul bordo della scogliere, sono appunto colorate, sono fatte di arenaria, sono tutte variopinte, con diverse tonalità praticamente dal bianco fino al nero, passando poi dal rosso e dall'arancio, giallo eccetera. I geologi non sanno esattamente come sia possibile che le scogliere siano colorate in questo modo, però secondo comunque un mito aborigeno queste scogliere sono state colorate da un serpente arcobaleno ucciso da un boomerang quando andò ad aiutare una giovane donna. Da qui appunto deriva il nome Rainbow Beach. Io spero che questa piccola escursione alla duna di sabbia Carlo e alle scogliere di arenaria se vi sia piaciuta, qui c'è un panorama fantastico con l'oceano davanti a voi. Non si vede purtroppo Fraser Island, vabbè non importa. Vi ricordo che in descrizione trovate i link a tutti i miei social per potermi seguire in questa avventura per sapere dove sono, cosa sto facendo. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e potete anche condividerlo con i vostri amici in modo da farmi conoscere un pochino. Se avete qualche domanda da farmi potete lasciarla in un commento in modo tale che vi risponderò molto volentieri anch'io con un commento o tramite un video in cui raccolgo le domande più frequenti. Ci vediamo al prossimo video, have a nice life! Ciao! Ciao! Ciao!